Si è tenuta questa mattina a Palazzo Barbieri la presentazione di fronte a diversi consiglieri comunali del nuovo progetto culturale intitolato Verona a portata di zaino, a cura di Francesca Viviani, presidente del centro animatori e guide del CTG di Verona, Francesca Cartolali e Giulia Adami, anche se membri dell'associazione. La nostra associazione, che è il gruppo guide animatori del CTG di Verona, si occupa da più di 40 anni di didattica e soprattutto di turismo, di didattica con le scuole. Infatti i nostri animatori sono proprio specializzati nel veicolare la didattica, i ragazzi, la storia e quant'altro. Il progetto, dedicato alle famiglie che vogliono visitare la città, è finalizzato a produrre un'esperienza artistica e culturale maggiormente fruibile e adatta ai più piccoli, attraverso strumenti di supporto e percorsi specifici. In questo progetto è stato proprio pensato, proprio perché noi siamo a contatto spesso con i bambini, con le scuole, proprio per le famiglie che vengono in visita a Verona. Ci sono già altre realtà che aiutano le famiglie con i bambini per approcciare la città in modo più ludico, però questo progetto a portata di zaino fa sì che noi dotiamo il bambino, la famiglia, di una borsa, uno zaino, non lo chiamiamo così ma potrebbe essere qualsiasi altro contenitore, con degli oggetti che sono sia oggetti come la lente di ingrandimento, come una mappa, oppure anche dei vasetti con degli odori, oppure anche matite. Insomma per fare un'esperienza di storytelling, oltre dentro ci sarà anche una guida per portare queste famiglie e soprattutto i bambini a scoprire la città in modo diverso e fare esperienza e attraverso l'esperienza del gioco arrivare a un'esperienza culturale.